Se sia stato merito di quel primo pasto o dei cento anni di riposo, io non lo so, ma non mi ero mai sentito così meravigliosamente bene. Suonare. Nella mia vecchia casa. Cazzo, ci ucciderei? No. Io sono venuto qui per darvi quello che per voi è sempre stato un sogno. Grazie.